. Miss Mondo 2017 è l'indiana Manusha Schiller-Win-Zuiden. A 20 anni, è alta 1.75, portamento elegante e determinazione. Nel suo futuro si vede cardiochirurga in un ospedale non-profit, oggi è la nuova Miss Mondo. . 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 L'ultima Miss indiana era stata Priyanka Chopra nel 2000, ma nel futuro della nuova Miss non si intravede il mondo dello spettacolo, per ora, il suo sogno è di diventare cardiochirurga e di aprire un ospedale non profiti in una zona rurale. .